Lei sfoglia, zii nudi, corrono così nudi e magri, e anche zie, con il culetto di fuori, e gente in pigiama come a teatro, e stelle di Davide di Stoffa, e tutti sono così brutti e magri, gli occhi grandi come polli. È terribilmente strano, è tanto grigio. Eliana ha pastelli rossi, blu, verdi, gialli e rosa, allora va nella sua cameretta, prende tutte le belle matite e con grande passione disegna a tutti quanti occhiali e facce buffe, e special bimbo pelato e magro, fa dei baffoni rossi così, e sulla punta dei baffi è posato un uccellino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.